da piccolino mio padre mi ha detto adesso figlio mio tu vieni con me io l'ho guardato e mi soffitato e mi ha portato a vedere te e da quel giorno sei con il successo suggerire che mi innamorò di te però non ho tempo per un'altra vita io la mia vita la vivo con te inter la 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 ciao ragazzi buonasera allora ragazzi benvenuti alla prima giornata di champions league real la società inter papa colpito volete due a zero chi ultima fegol partinec è andato A scuola nella prima parte finisce tre gol di Dolpietto di Lottaro e poi segnerà anche Carlos Agosto. Che parte ti fa? Beh, non il trapeco, forza? Inter! Inter Durano, 1908. 9 marzo, 1908. Beh, non do più il trapeco. Qual è il segno armato che dice che aveva l'interno del mio? Beh, do il trapeco. Il trapeco è il segno armato, due appunti di barri a decenni. C'è la fine. Preferisce ricominciare l'enormale. Se quelli, Traoré. Adesso credo in mani. Adesso è in testa. Ancora, Traoré, preferisce un rischio. Se c'era bisogno, per far capire il tipo di partita, si è spazzata. Non riesco a aspettare due spugni della mia sua sua mano per farli ripetire. Ok, vedete, tu dai. Non so. Pensi, non è una strada. Non so. 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 Ninacle paper. Common amore. Non so. Toro. Nanische. Un po. Non so muovolenza. Non so. Non so. Non so. Non so. il contatto non è con prex venders ma se c'è con il zappo o il zappo li vediamo boh dubbio boh non c'è stato niente aveva perso il passo gli era messo in una situazione un po' complicata il raddoppio ti ha complicato ancora di più la vita e prex venders domani 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 a fare guarda un po' come semmo non è un po' come semmo rara un'azio del senato l'aggetto più tempo io lo so Stai perdendo una zero Ma... Stai trovando il pallone! Ma hai trovato un pallone in gama, hai segnato Cosa parlo? No, stai, guarda questo pallone Ma ti metti la porco a trarci Ma qui, non è ancora ancora Sì, ora c'è il pallone Cioè, un bruttino, va! Spariamo il nostro tempo! Ehi! Spariamo il nostro tempo, speriamo! Gli va? Ma Gede, mi ha perdonato! Ma che ora? No! No! No, già andato già! Ma lui, vabbè! Eh, non hai toccato! Non hai toccato! Non hai toccato! Non hai toccato! Eh, che scusa è rosso! Quello di lui è rosso! Non è rosso, questo! E te lo... E te lo... E te lo... E te lo... Ah, uè! Vieni a guardare un dottor Angelo! Oh no! Non è rosso! Non è rosso! Ma... Uè, è bello! Questo è rosso! Ti ci faccio! Questo è rosso! Non è rosso! Non è rosso! Il nostro, il nostro! Il nostro! Ehi, il nostro! Stanno ciò! Non è rosso! Col stesso! a vabbè ecco ato io posso scaldare! io posso scaldare! io posso scaldare! spediamo! spediamo! no! non è rosso! è bucchio! sono loro che ci chiede, vediamo! vediamo! c'è! io posso scaldare! 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 non lo so! che! che! vado! 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 si è zitto! si è zitto! si è giusto! si è giusto! si è giusto! non è rosso! si è rinocato! ma che cosa qua? non è rosso! si è giusto! non è rosso! e che! si è giusto! si è giusto! si è giusto! si è giusto! è! 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 si è! i miei 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 miei! l'altano! l'altano! un po' di segnalo! all'altano! attina! L'EOTANO! E' un L'EOTANO! Il capitano! Il capitano! L'EOTANO! Ah, scrivi? L'EOTANO! Ehi! Se che ha l'EOTANO! F***! 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 Il Toro! Un euro! Beh! Ha cominciato la partita! Ehi! Ha cominciato la partita! Ehi! Matteo! Ha cominciato la partita! Ehi! Diciamo! Diciamo che... Potessi i meggi! C'è un giallo che mi ha detto la meggi! Ci ha spiegato la meggi! Come si è mi sta la partita! Sì! Beh! Novo Dima! Novo Dima! Ok! Novo Dima! Forza! P estaria... No è mazzo! Non è mazzo! Non ci ha dato! Ciao! Grazie a tutti